Scende la sera, l'aria si rinfresca ed è in questo momento che le mandrie escono allo scoperto, escono dall'ombra dei boschi, dell'altopiano per cercare qualcosa da mangiare, ma quello che trovano è davvero, davvero poco. La siccità sta devastando i pascoli delle montagne venete e questo accade anche in molte zone dell'altopiano dei Sette Comuni, dove le mandrie rimangono ben riparate sotto le fronde degli alberi nelle ore più calde ed escono alla ricerca di cibo solo quando scende il sole. Ovviamente anche se escono di sera dall'ombra in cui si sono riparate durante il giorno, le vacche fanno davvero fatica a trovare qualcosa di buono, di veramente nutriente da consumare su questi prati ormai bruciati dal sole. Questo vale per tutto l'altopiano, la situazione è davvero molto complessa, tanto che molti gestori di Malga hanno già avvertito che se non cambia qualcosa dovremo scendere prima della fine della stagione dell'alpeggio. Dove arrivano gli acquedotti l'emergenza si può combattere riempiendo vasche e piccoli invasi, ma dove l'acqua non c'è diventa davvero costosissimo portarla con i cassoni. Lo stesso discorso vale per il fieno e quando i conti non quadrano più l'unica soluzione è chiudere baracca e tornare a valle. Come potete vedere da quello che succede qui alle mie spalle, ogni filo d'erba, anche se non è più verde, vale la pena di qualche passo, di uno spostamento, di una ricerca da parte di questi animali, ogni filo d'erba strappato anche ai sassi di un parcheggio vale la pena. E questo è il paradigma dell'alpeggio delle malghe. Una tradizione, un lavoro, un mondo che è indispensabile preservare e che vuole rimanere vivo e vivace, attaccato anche all'ultimo filo d'erba dell'altopiano.